... Dragoni, elezioni per le amministrative, ci troviamo in compagna di Antimo Dino Cera, candidato sindaco della lista Forza Unita. Come mai la sua decisione a questa candidatura sindaco? La mia decisione a questa candidatura sindaco è molto semplice. Visto che già per molti anni ho amministrato questo comune, quindi già sindaco uscente della passata legislatura, mi sono candidato con l'attuale amministrazione uscente e poi per varie divergenze, con l'amico Silvio, sono sempre amici, ho deciso nel mese di settembre di dimettermi di assessore e di propormi al paese con una lista nuova. Qui si parla sempre di rinnovamento. Io dico sempre che il rinnovamento non sta, quando si fa politica sta nelle idee, quindi non si guarda all'età oppure agli anni di servizio della politica. Perché ho visto in questi ultimi tempi molti giovani che hanno idee molto più vecchie, forse del vecchio modo di fare politica. Quindi ho voluto mettere insieme una squadra di ragazzi giovani, il 40% sono donne, quindi già questo è un rinnovamento. Poi ho un ex assessore candidato con me, Michele Tommase, e un consigliere che ha fatto la minoranza, Pasquale di Pasquale, che adesso sta con me. Quindi abbiamo deciso di unire le forze e questo rinnovarsi al confronto. Quindi qualcuno, anche su questo ha avuto da dire, uno della sinistra, che si mette uno di destra. E c'è stato molto dibattito su questo, come si dice, denigrando le due persone. Ma la lista è civica, giustamente. Esatto, la lista è civica, quindi questo sta a significare che quando due persone per bene o di destra e di sinistra si confrontano e vogliono fare qualcosa di positivo e per il loro paese si mettono insieme. Un punto principale, due punti principali del programma elettorale. Ma il punto principale, io ci tengo moltissimo, è che ho in sospeso un piano PIP iniziato da me e anche dall'amministrazione Pagliaro, dove addirittura avevamo arrivato a una conferenza dei servizi tra regione, provincia e comune, un progetto, parliamo di 21 milioni di euro, che poi è stato arenato, non so nemmeno i motivi, perché forse la regione non ce l'ha più finanziata. Io credo che questo progetto è pronto, quindi lo vorrei riprendere. Questo significa occupazione, economia e sviluppo per il territorio. Lei ha detto che ha molti ragazzi, molti giovani candidati nella sua lista, ma sono di primo pelo per quanto riguarda la politica? O già hanno avuto altre esperienze di partito, di amministrative? L'unica che ha avuto esperienze di partito è Maddalena Cecere, che sta a fianco a me da qualche anno, però è una ragazza giovane, esperta politicamente, però amministrazione parlando non si è mai candidata. Poi parliamo di una ragazza di 25-26 anni che sta studiando, poi ci sono altri ragazzi giovani, c'è un poliziotto, c'è un carabiniere, quindi c'è la società civile, l'imprenditore. E quindi è una lista di giovani, sia di età e sia della prima esperienza. Come ho detto prima, gli unici già che hanno fatto amministrazione nel Comune di Dragone sono il sottoscritto Pasquale De Pasquale e Michele Di Tommaso. Uno slogan del suo schieramento? Ma lo slogan del mio schieramento è molto semplice, il rispetto per le persone, il rispetto per il Paese, il rispetto per chi fa delle scelte, perché io sto vedendo che in questi giorni non c'è rispetto per il Paese, non c'è rispetto per le scelte, ma molte persone si stanno candidando solo per un discorso di odio personale nei confronti di altre persone. Io non accetto chi in politica si candidata solo per, come si dire, invece di proporsi per fare qualcosa di buono per il Paese, ma si propongono solo per abbattere il nemico. Io non ho nemici, ho avversari, quindi l'amico Silvio è un avversario, l'amico Piucci è un avversario e Anna Di Bernate, che ha fatto l'assessore insieme a me qualche anno fa, quando io ero vice sindaco, è un avversario ma è una persona stimabilissima, però purtroppo ci sono degli elementi di disturbo che si candidano solo per odio personale e questo non depone bene al Paese e chi si candida, perché bisogna proporsi per fare qualcosa di buono nell'interesse di tutti, non di poche persone. Giuseppina Carlone è candidata nella lista di Antimo di Nocere, la sua prima esperienza in questa vita amministrativa? Sì, esatto, è la prima esperienza e ci mettiamo tutta la buona volontà per fare qualcosa di buono e di positivo per il Paese. Il candidato sindaco come l'ha convinto a candidarsi nella sua lista? Allora, Antimo sta lavorando con me da circa otto mesi, è venuto a casa, mi ha illustrato a grandi linee il suo progetto e questo è stato positivo perché mi ha convinto con le sue idee nuove. Antimo è una persona che ormai è nell'ambito amministrativo da più di 20 anni, quindi conosce bene i meccanismi che hanno caratterizzato il nostro Paese, è stato sindaco, è stato vice sindaco, è stato nell'attuale amministrazione oscente, quindi diciamo che i meccanismi li conosce bene e devo dire la verità, a me affascina un po' questo ambiente, l'ambiente politico e diciamo che ho puntato su di lui per avere quelle informazioni che possono essere poi buone per un futuro ancora migliore per il nostro Paese, è una persona che dà modo di parlare, è una persona che, ecco questo è il suo aspetto forse migliore, quello che ascolta, è una persona che è in grado di ascoltare, è una persona che ti dà spazio, ti dà lo spazio per potersi esprimere, per mettere la sua esperienza in gioco con le novità che possiamo proporre noi nuovi nella sua lista, quindi questo è positivo, è positivo. Avere una persona alle spalle che comunque ha un bagaglio di esperienza, che però si rimette in gioco con le nuove idee, con i giovani, questo è positivo sicuramente per il Paese. Una ragione per la quale chiede il voto agli elettori? Allora, io ho un bambino che è da cinque anni qui nelle scuole elementari, quindi ho avuto modo di vedere un po' quelli che sono gli ambienti dove sono i bambini. Purtroppo Dragoni non ha quasi nulla, se non poche sporadiche attività fatte o nell'ambito parrocchiale, nell'ambito da parte di genitori volenterosi, però penso che anche da parte dell'amministrazione debba esserci un messaggio forte rivolto proprio. Bambini, giovani, abbiamo tante persone che hanno delle difficoltà fisiche, psicologiche, che devono essere supportate anche da un punto di vista amministrativo. Non possiamo delegare tutto alle associazioni che operano egregiamente sul territorio. Secondo me un'amministrazione comunale deve dare un messaggio forte anche al Paese ed è questo l'ambito che a me interessa. Io devo poter guardare in faccia i miei figli e dire io ci ho provato, voglio fare qualcosa per voi, voglio fare qualcosa per i vostri amici e per i vostri compagni. Questo è il messaggio che io mi sento di lanciare. I bambini sono il nostro futuro, se ci occupiamo di loro siamo sicuri di avere un domani, un Paese migliore sicuramente.